Già che ci siamo, dovremo liberare il nostro fratellino che sta lì per stupro. La gente intanto ha altro a cui pensare e fra poco chi se ne ricorda più? Sì, parole sante. Guarda, ti do sei giorni che anche questo omicidio sarà cosa vecchia e in giro si dirà, ma non c'è nulla di nuovo. E allora che aspettiamo? Io mi cucino gli ufficiali. Tu affila la tua lama con il bonia. Tu lascia fare a me. Eccellenza, signor ufficiale, questo è il sigillo ducale.